Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il FAT. Oggi parliamo di campagna vaccinale sia per quel che riguarda l'influenza sia per quel che riguarda il Covid. Lo facciamo avendo il piacere di avere nei nostri studi il dottor Mauro Petrucci, segretario abruzzese della Federazione Italiana, medici di medicina generale. Buonasera Petrucci. Buonasera direttore, buonasera a tutti e grazie dell'opportunità per poter parlare di vaccinazioni. Allora, lei la ricordano tutti perché siamo venuti più volte a trovarla, insomma nei periodi di vaccinazione di massa del Covid ha messo su una ripateatina ma anche un po' su tutto il territorio regionale una rete di centri in cui si correva, si faceva addirittura la fila per potersi vaccinare per il Covid. Iniziamo proprio da questo. Cos'è cambiato in questi due anni sostanzialmente di campagne vaccinali che invece sono state un po' più soft? E' questo ancora il periodo per vaccinarsi? Serve vaccinarsi nuovamente per il Covid oppure, come qualcuno dice, abbiamo raggiunto una tale immunità di gregge che non c'è bisogno più ormai di vaccinarsi? Oppure ognuno già l'ha preso una volta quindi è difficile che possa ricontaggiarsi? Ma guardi, questo virus ci ha abituato a non sorprenderci più di nulla perché ne ha combinate di tutti i colori, muta, cambia, continua ancora oggi ad essere presente senza una stagionalità. Noi siamo abituati a questo genere di virus, ad avere una predominanza durante la stagione autunale e invernale. Il Covid non ha stagioni, anche durante quest'estate abbiamo avuto tantissimi casi. Diciamo che ha perso un po' quell'aggressività che aveva all'inizio, anche perché con i vaccini, con l'immunizzazione che abbiamo avuto, avendolo contratto quasi tutti, diciamo che il nostro organismo oggi risponde meglio. Però rimane indubbiamente un virus che nei soggetti fragili, nei soggetti anziani, nei portatori di patologie croniche, così come ad esempio il virus dell'influenza può dare dei problemi seri, anche esso può continuare a darlo. Quindi le indicazioni alle vaccinazioni, soprattutto in questa classe di cittadini, di pazienti, io continuo ancora a consigliarlo. Mi vengono in mente per esempio le comunità oggi sempre più frequenti di residenze per anziani, dove la convivenza con pazienti fragili può determinare dei problemi seri. Ci sono ancora dei ricoveri ad oggi di pazienti che avendo contratto il Covid stanno avendo complicanze dal punto di vista cardiorespiratorio. A proposito di complicanze, esiste questo Long Covid? Glielo chiedo, nella sua esperienza di medico di famiglia? Long Covid sì, perché io sto notando, cosa che non mi era mai capitato, che ci sono dei sintomi strani, dei comportamenti strani. Noi quest'anno abbiamo assistito, ci siamo tutti confrontati, abbiamo riscontrato degli episodi di tosse che non rispondevano alle solite terapie, che il paziente veniva visitato. Io più volte sono stato indotto a richiedere degli accertamenti tipo torace, tac, perché non riuscivo a capire come mai questa tosse non rispondeva ad alcuna terapia e si protraeva nel tempo. Fino a quando poi, facendo dei ragionamenti così legati a quella che è stata la manifestazione del Covid, che ha creato dei problemi a livello del sistema infiammatorio, delle citochine, leuchine, istamina, evidentemente ci ha resi tutti quanti un pochettino allergici e quindi ci comportiamo come il paziente allergico e quindi la tosse si protrae e devo dire che sono riuscito a risolvere moltissimi casi di tosse quando li ho affrontati con una visione diversa, proprio come se fossero dei pazienti allergici e quindi anche con dei semplici antistaminici ho visto che la risposta era soddisfacente. Naturalmente questo va confrontato, caso per caso, con il proprio pedico di famiglia, però può essere un'idea per capire certi sintomi strani che a volte abbiamo. Che sicuramente non sono quelli che dicono i Novax, perché vaccinarsi è importante, è necessario, come lei ha detto, è ribadito più volte, è dimostrato anche con i fatti e soprattutto adesso è anche per le persone che hanno questa esposizione, io mi riferisco per esempio anche a chi lavora in grandi comunità tipo le scuole dove c'è una circolazione invernale del virus evidente, stagionale in questo caso, rivolgersi al proprio medico di famiglia per avere consiglio e anche per poter fare direttamente il vaccino magari insieme a quello dell'influenza. È possibile? C'è una risposta da parte dei vostri pazienti su questa campagna che è iniziata anche per l'influenza? Allora, la campagna vaccinale quest'anno è partita, il 10 ottobre, noi abbiamo assistito l'anno scorso a un calo della risposta vaccinale, perché probabilmente poteva anche essere giustificata e fisiologica perché dopo l'ipervaccinazione diciamo così che abbiamo dovuto sostenere per il Covid, per fronteggiare il Covid c'è stata questa flessione che noi quest'anno stiamo cercando di far ritornare in percentuali diciamo ottimali e devo dire che la risposta quest'anno è maggiore rispetto all'anno scorso, quindi l'effetto rebound in negativo è superato, la risposta c'è. Io consiglio a tutti, oggi diciamo che mi sento di dire che tutti siamo esposti, perché c'è una vita di comunità molto ampia, gli scampi sono maggiori, la presenza di grossi centri commerciali in cui transita tantissima gente, gli assembramenti, è difficile isolarsi come una volta, l'isolamento oramai non c'è più, per cui la circolazione di questi virus è molto rapida, molto veloce e quindi vaccinarsi sicuramente è da fare, è da consigliare. Per questo per tutti ovviamente. Per tutti, perché? Perché, dottore, da quello che leggiamo sui media nazionali, in alcune regioni è già in qualche modo iniziata l'epidemia, pare che sia un cepo molto molto virulento questo australiano. È il cepo virulento, probabilmente anche il nostro organismo non sappiamo, io dico che quest'anno ho assistito a una recrudescenza di diverse tante malattie infettive, abbiamo avuto diverse infezioni da streptococca, abbiamo avuto infezioni virali, da virus cinese inciziali, qualcosa sta succedendo, probabilmente stiamo pagando anche lo scotto di un antibiotico resistenza che avevamo denunciato e paventato da tempo e che ci sta forse cominciando a presentare il conto. Sì, chiudendo sui vaccini, qualche istruzione operativa per poterli fare dai medici di famiglia o anche nelle farmacie? Sì, adesso c'è anche questa possibilità delle farmacie, medici di famiglia, basta rivolgersi al proprio medico, abbiamo un'ottima dotazione di vaccini e io aggiungo non solo quello anti-influenziale, anti-Covid, ma c'è anche la possibilità e l'opportunità di fare anche il vaccino anti-pneumococco che è gratuito, da 60 anni in su si è iniziato con la classe del 1952, si arriva quest'anno alla classe dei nati nel 59, con questa gratuità che è un vaccino contro lo pneumococco per le patologie respiratorie. Allora, sia il Covid che l'influenza che l'anti-pneumococco possono essere fatti contemporaneamente, mi spiego meglio, posso fare contemporaneamente in una stessa seduta l'anti-Covid e l'anti-influenzale o l'anti-influenzale e l'anti-pneumococcica e poi a distanza di due o tre settimane ne posso ripetere eventualmente la terza vaccinazione qualora io decido di farla. Questo è il periodo migliore, il tempo ci sta accompagnando perché la stagione così fredda dal punto di vista climatico sta un pochettino tardando. Quindi farla adesso, non aspettare dicembre e gennaio perché si vedono ancora le belle giornate, invece è il momento di farla adesso. Perché il periodo per avere l'immunizzazione sono almeno 15, 2-3 settimane, quindi dobbiamo essere tempestivi. Allora, un minuto sotto, qua ci vorrebbe un'altra trasmissione, per dire, insomma, questo luogo comune, adesso si parla tanto, lei rappresenta come sindacato i medici di famiglia, del debito della sanità, delle asle, dei piani di rientro, però insomma, vengono spesso chiamati in causa anche i medici di famiglia, per prescrizioni che vengono definite inappropriate, soprattutto di diagnostica e anche la spesa farmaceutica. Voi come vi difendete da queste accuse? Allora, io sono accuse che mi sento di rigettare al mittento, per una ragione molto semplice. Io sono nato professionalmente nel 78 con l'833, con la migliore legge che il nostro Stato abbia potuto fare. Sono cresciuto, andrò in pensione, mi auro che non vada, nemmeno l'833 invece resista e non vada in pensione, perché dico questo? Perché noi abbiamo assistito in questi anni a un netto miglioramento delle condizioni di salute degli italiani, non a caso la nostra vita media si è allungata di tantissimo, quindi a testimonianza di che cosa? Di una sanità che ha funzionato. Ora, quando mi si dice a me medico, alla luce di questi dati oggettivi e non emotivi dell'appropriatezza, io mi sento offeso perché mi sembra che mi si voglia accusare di una mancanza di eticità e di ontologia nel prescrivere accertamenti e farmaci ai miei pazienti. Tenuto conto che oltretutto noi operiamo ancora oggi da soli nei nostri ambulatori, nonostante le sollicitazioni e gli stimoli a dotarci di personale infermieristico, di studio, a lavorare in gruppo e ad avere anche la possibilità di un minimo di dotazioni di strumenti, però noi nell'arco della visita in cui abbiamo il paziente di fronte, noi dobbiamo fare una diagnosi, dobbiamo fare dei ragionamenti e quindi dare una terapia. Abbiamo una grossa responsabilità anche dal punto di vista medico-legale, quindi anche gli esami che chiediamo, ma un paziente che va al pronto soccorso, che lamenta un qualsiasi sintomo e non riesce senza che gli sia stato fatto una serie di esami, la maggior parte anche in quel caso che potevano essere evitati e che però sono necessari anche per una questione medico-legale e io perché devo farlo andare al pronto soccorso? Allora anch'io chiedo un minimo di accertamenti, un minimo di esami a tutela innanzitutto della salute del paziente, ma anche a tutela dal punto di vista del medico-legale mio. Oggi la medicina è cambiata notevolmente, se io vado a riprendere il mio libro di clinica medico, di patologia medica e mi vado a vedere per ogni malattia la prognosi, è stata cambiata radicalmente, laddove c'era una prognosi in fausta, oggi c'è una prognosi o di guarigione o di cronicizzazione, anche la malattia che ci spaventa di più che è quella neoplastica, molte di queste malattie oggi sono diventate delle patologie croniche, io ho dei pazienti che sono 15-20 anni che convivono con la loro malattia e che vanno avanti per fortuna, ma questo è chiaro che implica dei costi, implica la richiesta di accertamenti, di controlli, di monitoraggio, quindi la lievitazione della spesa è determinata e dovuta anche a tutto quello che è cambiato fortunatamente in medicina. E quindi lei ha indicato, se vogliamo, anche una via d'uscita che è quella di dotare i medici di famiglia di maggiori strumenti diagnostici in modo da diminuire i costi e realizzare un sistema integrato. Il Ministro Speranza aveva stanziato 300 milioni per dotarci degli studi medici, non sappiamo dove sono andati a fine questi soldi, li stiamo cercando perché dovevano essere investiti per dotarci di quel minimo di strumenti di cui oggi noi possiamo disporre, perché la tecnologia medica oggi ti dà anche la possibilità che quello che prima era un apparecchio, uno strumento ingombrante e costoso, oggi viene miniaturizzato, costa di meno e lo posso gestire anche in un ambiente che non è l'ospedale. E quindi ne dobbiamo fruire e poi io dico che, io mi sono fatto una convinzione anche per noi in Abruzzo, non mancano i soldi, vengono spesi male. Eh sì. Allora, grazie non soltanto per la posizione sindacale ma anche e soprattutto per l'appello sui vaccini e anche per l'idea, insomma qualche idea che abbiamo aggiunto al dibattito sulla sanità che è uno dei temi più importanti che riguardano la nostra vita, la nostra contemporaneità. Grazie dottor Petrucci, appuntamento alle prossime occasioni con il Fatto. Arrivederci. Grazie a lei direttore.